Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, il Pescara senza Frascatore e Chiarella, rientra Derisio dalla squalifica, la novità sostanziale nel 4-3-2-1, l'impiego di Inzita non giocava titolare, dallo scorso 14 febbraio, Regione a 2, Pescara a 0, tra l'altro nella partita espulso, doppio giallo nel corso della ripresa, Derisio davanti al reparto arretrato con Pompetti e Pontisso Mezziali. Limolese senza Vona e Padovane che partono dalla panchina perché naturalmente diffidati, non c'è neanche Rossi perché non ha il meglio della condizione, al suo posto Santo Padre, Tre Pali, il figlio del Presidente del Perugia, si disimpegnerà bene, Belloni parte dalla panchina, gli viene preferito De Sarlo, 4-3-3 con Luca Lombardi, un mancino molto interessante che parte da destra, vanno a completare il reparto d'attacco, De Sarlo e appunto Romano. L'arbitro è cavaliere della sezione di Paola, gli assistenti Collavo di Treviso e Cadirola di Milano, inquadrato Gaetano Fontana, ex grande trequartista, piede mancino di grandissima qualità, quarto uomo, Pistarelli di Fermo, si comincia così, ritmi bassissimi, ritmi proprio da fine stagione, ma il Pescara deve vincere questa partita per blindare il quarto posto e sperare nel terzo, se arrivano naturalmente buone notizie da Siena, ma tra Siena e Cesena finirà 0-0. Questa è la prima azione di un certo rilievo, diciamo così, del Pescara con Dursi, ispiratissimo anche oggi, l'ha battuta al volo di Clemenza con la palla bloccata senza problemi. Siamo difensore del Limolese, Santo Padre, il tentativo poi della formazione ospite, qui praticamente cestina, una clamorosa opportunità proprio, Luca Lombardi su una sovrapposizione sulla sinistra creerà tanti problemi, Liviero, che non è un carneade assolutamente. classe 93, scuola Juve, ha cominciato nel Perugia di Andrea Camplones, che era subentrato a Battistini nel campionato 2012-2013 in Serie C1. Ancora Limolese, che gioca anche meglio, sicuramente più organizzata del Pescara, la formazione ospite, il gran destro del numero 21, Dalena. E questo è un altro segnale da parte della formazione ospite, inquadrato il numero 4, Boscolo Chio, in realtà il tiro è di Dalena, il regista della formazione di Gaetano Fontana. La palla termina di un soffio a lato, da destra la porta difesa da Sorrentino, 26esimo minuto nel corso del primo tempo, attacca Limolese, il gol del vantaggio, dai e vai tra Liviero e Romano, il grandissimo gol. Acrobazia di assoluto pregio, appunto, di Matteo Liviero, classe 93, però insomma non scalano bene i difensori del Pescara, c'è una grande disattenzione, distrazione del reparto arretrato, lo stesso Clemenza, se non vado errato, che non segue il giocatore che poi andrà, sì infatti, andrà a concludere imparabilmente per il portiere Sorrentino. Gran gol, non c'è dubbio alcuno di Matteo Liviero e dunque 1-0 a sorpresa dell'Ibolese, sono al campo del Pescara, siamo al minuto 26 nel corso del primo tempo, rivediamo da più angolazioni questa gemma, questa perla in acrobazia. Ripetiamo ancora una volta di Matteo Liviero, è un gol che scuote però i biancazzurri, c'è il traversone di Dursi, il tentativo di Ferrari, bravo santo padre, spreca l'impossibile Pompetti, con il piede a lui meno con Geniale sì, però insomma porta vuota. Non si può sbagliare un gol del genere, per carità, può capitare, capita anche ai grandi campioni, può capitare anche a Pompetti, però è un errore da sottolineare, ma il Pescara cresce in questa parte del primo tempo. Il gol di Clemenza, il ravvitamento di testa sul preciso cross di Dursi, il migliore Dursi, anche oggi nella squadra biancazzurra, il settimo centro in campionato per Clemenza, che va ad anticipare Liviero, non proprio la specialità della casa di Clemenza, però questo è un gol bellissimo, 36 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 1-1 il parziale, la rete di Clemenza, ispirato magistralmente nella circostanza da Eugenio Dursi, classe 95 Dursi, oggi il migliore del Pescara, per distacco in una partita dal grigiore assoluto da parte dei biancazzurri. Eccolo qui il gol, il grande stacco aereo di Clemenza, con la palla che parte subito all'angolino, nulla da fare per Santo Padre, settima rete in campionato per il classe 97, esultano i tifosi della curva nord, 1-1 rimette a posto le cose il Pescara, siamo al 45esimo, dunque in avvio di ripresa, Pompetti recupera palla, non l'abbiamo visto nelle immagini, poi va a chiudere il sinistro di giustezza su traversone basso dello stesso Dursi, l'azione si era sviluppata proprio sull'asse, Pompetti che aveva recuperato il pallone nella sua metà campo, Pontisso Dursi il traversone basso, lì non è stata molto attenta a dire il vero la difesa ospite, e poi di giustezza col suo sinistro il Mancino, di grande precisione, Pompetti che realizza così il suo quarto gol in campionato, non andava in rete dal 2 febbraio, 1-1 in casa con la Carrarese, guarda caso la squadra che il Pescara ritroverà nei play-off di Girone a partire da domenica prossima, primo maggio. Il gol dunque di Pompetti, il Pescara riesce a cambiare l'inerzia della partita, sembrerebbe così, ma attenzione a Luca Lombardi, il suo gran sinistro, la super parata, dobbiamo dire, di Sorrentino, Pescara in vantaggio per 2-1, ma c'è subito la risposta del Limolese e il Pescara comincia a distrarsi troppo, 66esimo, calcio d'angolo di Romano, guardate, Angeli prende la mira, se lo perde proprio in grosso, un errore del numero 28 del Pescara, prende la mira Angeli, classe 2002, scuola Milan, pensate, questo è il settimo gol per il centrale della formazione di Gaetano Fontana e il cannoniere del Limolese, anche questa è una curiosità, però insomma, troppa libertà, prende la mira, ripetiamo, non deve neanche staccare su questo cross da calcio d'angolo, se lo perde proprio in grosso, che sbaglia, sbaglia in marcatura e c'è il pareggio del Limolese, altra doccia fredda per i pochi spettatori presenti all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, siamo al minuto 66, quasi 67 nel corso di questa partita, 2-2, il Pescara era riuscito a ribaltare la situazione, ma poi ci sono state un paio di, in un paio di circostanze, aveva accusato qualche difficoltà, la formazione di Biancazzurra che poi però reagisce ancora con Pontisso, questa volta Pontisso che è cresciuto nel corso della ripresa, non una parata banale, perché la palla rimbalza davanti a Santo Padre, che non si fa sorprendere, poi 72, ancora Pescara con Pontisso, l'assist per Clemenza, il controllo e il palo, clamoroso, sfortunato Clemenza, sfiora la doppietta personale, sarebbe stato l'ottavo gol in questa stagione, forse colpisce troppo bene il pallone, stato sfortunato in questa circostanza Clemenza, palo, la palla che attraversa praticamente la linea di porta e si spegne a fondo campo sul versante opposto, davvero sfortunato in questo caso, il classe 97 Biancazzurra, 83esimo, Pescara si attacca con il cuore, però insomma non ci sono grandi idee, anche se qui c'è un ottimo assist per Cernigoi che avrebbe potuto fare nettamente meglio, bravo Santo Padre però, reattivo in uscita, riesce a sventare la minaccia, 94esimo, siamo nelle fasi finali del match negli ultimi secondi di recupero, finisce 2-2, delusione Pescara che chiude sia al quarto posto, in realtà al quinto, perché per differenza reti salta il primo turno dei play-off l'Entella mentre il Pescara comincerà domenica contro la Carrarese all'Adriatico. Grazie a tutti, grazie a tutti.